Tra 300 metri andate a sinistra alla rotonda, quarta uscita Andate a sinistra alla rotonda, quarta uscita Tra 200 metri girate a sinistra, poi arrivo Girate a sinistra, poi arrivo Se quando poi uno fa come se ci viene, se non è intanto sì Noi 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 No 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 Quello che desideravamo Ode a tratti Spiega 7 minuti Ginti Ma E se lo andai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti